Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. oggi. e tutti. e tutti. . e tutti. 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 e... e tutti. e tutti. e... e... e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e... 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 ... ... e... ... 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 Iaca, lutea, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, lutea, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, lutea, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, lutea, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. 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 Si aggiorna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. Iaca, luna, che le stelle duele, non sovra la pari te. si può provare che il signore ha presunto il tempo di mani specchi, questi risulti che hanno avuto lasciato, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, però, in Chiesa, sempre, cioè, come mi sento, la messa a casa, come se mi vado, ecco, la mia mia volta, per me, mi sento la messa, ma, la messa, intervista, un pari per nessuno, e anche per altri, sono altri, sono giustificati, perché sono altri, e per, ecco, per tanto, si fanno beccati, se non abbiamo la messa, invece, mi stanno scutturando, una cosa di caffè, o beccati, se non ci senti, se non ci senti, se non ci senti, però, per me, perché, 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 si chiede, si chiede, perché, a soltare, dopo, il contratto, questo, per domani di domenica, mentre voi, avete, che, e primi, italiani che mi prendono, il mio libro, italiani di mese, prenderemo anche, delle case dei nostri figli, qua, sono 80 a palati, 80 a palati, sono circa, le mie gushan, questo è una sala di aria che vi gushan, i professori di Dito, se li sapete, non ci sono delle ammarrate, tutte, io ho un po' di casa, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.